Ciao! Allora, provate Marte, che è l'ultima parte che vi hanno dato, pianeti di Holst, alla velocità di 110, col metronomo che scaricherete fra poco, uguale al mio. Ricordatevi che è in 5 quarti, quindi il maestro darà 1, 2, 3, 4, 5... Una volta che l'avete fatto bene, velocizzate, 120, 130, 140, 150, e in realtà il pezzo originale è molto più veloce, non so se ricordate quando l'abbiamo ascoltato a scuola è veloce, quindi studiate, fatelo a tempo, fatelo tanto, ciao!